Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'ordi dei potenti e di eroi straordinari. E il più grande e il più forte di tutti questi eroi era il possente Ercole. Ma come si misura un vero eroe? Ora è di questo che la nostra storia... Ma di quello sentite? Questa storia la fa sembrare una tragedia greca. Alleggerissimi, bello! Da qui attacchiamo noi, caro. Vai, ragazza! Noi siamo le muse, dei delle arti, e proprio nella vicina. E noi, come Ercole? C'è solo vuol dire maschile! Perché se deve fare della dolce musica del suo? Per rispetti, la nostra storia comincia molto prima di Ercole, molti anni fa. Tanto tempo fa, per il pianeta erano guai, imperversava, brutta, dettita, di la follia. E noi, come Ercole? E noi, come Ercole? E noi, come Ercole? Ognuno decineva per sé. E tra vulcani e terremoti, tutto andava giù. Ed un'ottima ragazza! E non c'è la storia. Tirco di i suoi pollini. Per giù! Santo terra, dismini. Così tutto e tutto tranquillo, come mai! E non saprai che l'unica fornante verità! E ma se c'è una storia? Sì, bella, lo faccio tutto in carità, perché se sembra impossibile cercare di più, sul mondo di popolo, la pace grazie a tu, se fa tempo sentarti strano e sbagliare, no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.